Non so cosa faremo senza di loro. Ehi, Thor. Sembra che questa esperienza ti abbia migliorato. Credo che tutte le esperienze ci migliorino. Potremmo non accorgercene, ma ci rendono quello che siamo. Sono contenta per te, davvero. Per quanto una vita normale sia affascinante, a volte sento il bisogno di illuminare il cielo. Check di sicurezza. Scudi online. Piena potenza. Tutto a posto. Non l'ho mai chiesto a Odinson. È normale parlarci con Mjolnir? Mjolnir ti parla? Oh, quindi non è normale. Ah, io no, non intendevo quello. Con me non sono solo parole. È più una sensazione, una connessione. Come se fossimo uniti, capisci? Mi sarà capitato il Mjolnir con la parlantina. Alla prossima, Esco. Tienimi la postazione. Quanto bene. Quanto bene. Quanto bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Vieni un attimo e scopri cosa ho qui per te. Fammi sapere se qualcosa ti colpisce e... Io te la preparo. Vieni un attimo. Vieni un attimo. Vieni un attimo. Ok, non mi aspettavo quella scelta, ma ora che lo guardo meglio... È perfetto per te. Ne farò di nuovi, men che non si dica. Torna presto. Non mi aspettavo la scelta, ma ora che lo guardo meglio... Ehi, Torna. Tu sei in giro da un po' di tempo, giusto? Vivo ormai da migliaia di anni. In tutto questo tempo ti sarà sicuramente capitato di essere odiato e incolpato per qualcosa. Ci sono state volte in cui non ero il benvenuto, sì, lo ammetto. Ora, dove sono quei risultati? Eccoli qua. Chissà se posso replicarlo. Donald Blake, giusto? Il mio alias, sì. Divenire umano per qualche anno è stato liberatorio. Io ero Luke Charles quando studiavo all'estero. Cosa non si fa per un po' di pace? Sì, ti capisco. Ci pensiamo subito. Siete autorizzati all'atterraggio. Siete autorizzati all'estero. Grazie. 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 Parla Hill. Abbiamo trovato una struttura in cui l'IM si prepara ad avviare un altro reattore ARC finto. Sappiamo bene com'è finita l'ultima volta. Dobbiamo fermarli. Il reattore ARC è nei paraggi. Jarvis, rilevi qualcosa? Pronto e operativo, comandante Hill. Buona fortuna. Nelle vicinanze c'è una squadra d'élite AIM. Aggiorno l'interfaccia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono dei non amici. Ok, meno parole e più pugni. Che bella sensazione. Grazie a tutti. 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 E questo è tutto, ragazzi. Unità AIM sul radar. Così si fa. Buonanotte, tesoro. Qualcuno sta tenendo il punteggio, perché mi sa che sto vincendo. E questo è tutto, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi sento ragazzi a tutti. Ma non imparano mai. Ha funzionato. Dio, usi i suoi poteri. Ora sei al sicuro. Ehi, mi serve aiuto! Grazie a tutti. 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 Che la festa cominci. Fate del vostro pezzo, plebei! No, no, no! Sì, sì, sì. Facciamogli male, gente! Mi so ancora fare! Facciamogli male! Facciamogli male! Facciamogli male! Grazie a tutti. 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 Dovete sconfiggere tutti i membri della squadra d'elite. Schicchiolerai, Hulkmaster! Non mi preoccupate, ce ne ho abbastanza per tutti. Per questo ci chiamano a venti. Uno dei loro agenti è a terra. Questa è la mia... La squadra non è più una minaccia. Dovremmo aver finito. Dobbiamo prendere il controllo dei loro sistemi. Portatemi al luogo segnato sull'interfaccia. Allora... 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 Grazie. 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 Mi hai conquistato! Grazie. 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 Sono orgoglioso di me! Oh! 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 Mi serve più tempo. Non fate avvicinare i nemici. Non possiamo arrenderci! Facciamogli vedere chi siamo! Oh! 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 Questo viene dal cuore! Ci stanno superando! Ho quasi finito. Tenete duro. Quasi finito. Grazie a tutti. Fatto. Ottimo lavoro. Mantenete il controllo della rete così che mi infiltri nel sistema di sicurezza IM. Vado del vostro pezzo, plebei! Siamo! Dirigetevi al terminale, così potrò farvi entrare nel laboratorio. Non avevi speranze! Non riparano mai! Vado del vostro pezzo, plebei! Dovrò accedere a più terminali. Più sono, meglio è. L'IM avvierà un protocollo di spegnimento se metterà le mani sui terminali. Impediteglielo. 5 minuti di pausa! Inizio l'accesso. Spendenti! Piazza! No! No! Sono nel sistema di sicurezza dell'I.M. Fatevi valere! Adios! All'attacco! Mi state aiutando. Grazie. Inizio l'accesso. Inizio l'accesso. Protocollo di spegnimento in corso. Mi state aiutando. Grazie. E' arrivato l'ora del coprifuoco! Protocollo di spegnimento avviato. Perché non vi prendete una pausa? Sono nel sistema di sicurezza dell'I.M. Inizio l'accesso. Sono entrato nel sistema di sicurezza dell'I.M. Ho segnato la nostra prossima destinazione sull'interfaccia. Eccoci. Ancina. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono dei... non amici. Ce l'avete fatta. Grazie a tutti. L'IM ha un reattore ARK nelle vicinanze. Distruggetelo. Che la festa cominci! Così si fa! Ma non imparano mai! Il reattore è alimentato da quattro scatole di derivazione. Distruggetele per poter distruggere il reattore. Qualcuno sta tenendo il punteggio? Perché mi sa che sto vincendo! Facciamogli male, gente! Scatola di derivazione distrutta. Scatola di derivazione distrutta. Scatola di arrivare! Scatola di arrivare! Scatola di arrivare! Non guardate direttamente nel razzo, bambini! Altra scatola di derivazione fuori uso. Questo viene dal scuole! Perché non vi prendete una pausa? Ciao, ciao! E ora che un velo l'elemento! Eccellente! Avete distrutto un'altra scatola di derivazione. Qualcuno faccia rialzare Hulk! Torna a combattere, a mezzo! Aspetta per i classi! Chiudiamo tutto! Ok! 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 Il reattore ARK si sta spegnendo. Il reattore ARK altamente instabile nelle loro mani. Il reattore ARK. 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 Il reattore ARK. Il reattore ARK. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.